Orario un po' anticipato, sono le 21.32 circa almeno al mio orologio, dureremo anche un po' di più, circa un'ora. Quello che faremo è che continueremo a raccoltare storie di scienza e di scienziati, i primi due sono già qui in studio accanto a me, con loro parleremo di computer e nuovi materiali, ne parleremo fra un attimo, comunque li presento, benvenuto a Valerio Rossi Albertini, fisico dei materiali del CNR e accanto a lui Domenico Laforenza, matematico, informatico e grande esperto di internet e di computer. Benvenuti a entrambi, vi chiedo un attimo di pazienza perché prima, questo è un canale essenzialmente di news, allora faremo delle news scientifiche, e cominciamo dalla scoperta, quella che abbiamo considerato la scoperta della settimana, diciamo così, riguarda gli esopianeti, cioè quei pianeti al di fuori del sistema solare. Abbiamo un servizio su di questo, prego la regia. La prima luce di un pianeta alieno esterno al nostro sistema solare l'ha registrata nell'infrarosso il telescopio Spitzer della NASA e arriva da una distanza di circa 41 anni luce, praticamente dietro l'angolo se paragonato alle dimensioni dell'universo. Ruota intorno a una stella, la Cancri 55, in 18 ore. È la prima volta che si riesce a registrare direttamente la radiazione di un pianeta extrasolare, una tappa fondamentale nella corsa di individuare corpi celesti in grado di ospitare la vita. Finora dell'esistenza dei pianeti extrasolari si aveva soltanto una prova indiretta, dall'attenuazione della luminosità della stella intorno a cui ruota il pianeta, provocata dal passaggio del corpo planetario, come vedremo col transito di Venere, davanti al Sole il prossimo 6 giugno. In pratica, i scienziati valutavano l'entità dell'ombra, la microscopica diminuzione della luce emessa dalla stella. Ora invece si osserva direttamente il pianeta extrasolare e la scoperta non sarebbe da poco. Il pianeta sarebbe roccioso circa due volte la Terra, quanto a dimensioni, ma sai più massiccio. Non solo, ci sarebbe un'atmosfera gassosa e acqua in superficie, probabilmente allo stato liquido. Insomma, manca soltanto l'ultimo passo, quello di trovare tracce di vita. Ma non ci vuole molto, forse soltanto telescopi più potenti, almeno questo ci dice la scienza. Anche se a noi piace lavorare di fantasia, se questi fantomatici e tici guardassero, vedrebbero ciò che accadeva da noi 41 o 42 anni fa. Con un po' di fortuna potrebbero assistere in diretta a Rivera che segna il 4-3 alla Germania Mondiali di Messico 70 e in tempi di spread sempre più alto e di strapotere tedesco sull'economia, non c'è che dire, sono soddisfazioni anche se aliene. E adesso mi vado a sedere perché la prossima notizia, beh, ha bisogno che io stia a sedere perché francamente mi scappa quasi da ridere. Di che cosa si tratta? Dei dinosauri che fossero grandi, che alcune specie fossero dei grandi divoratori di erba, questo lo sapevamo. Però un'equip, ed è tutto vero, un'equip di scienziati inglesi ha calcolato l'entità complessiva, uso un giro di parole, delle flatulenze, questa la devo dire, dei dinosauri, emissioni di gas metano. Ebbene, la cifra che è venuta fuori è incredibile. Pensate, 500 milioni di metri cubi di metano. E francamente scappa un po' da ridere. Quello che però è il contenuto scientifico di questa, chiamiamola scoperta, è che i cambiamenti climatici della preistoria, o almeno alcuni di questi, potrebbero essere stati causati addirittura, pensate un po' da queste flatulenze dei dinosauri. Ma, chissà. In autunno vengono assegnati Nobel, qualche tempo prima vengono assegnati dei premi alternativi per le ricerche più bislacche. E chissà che questa, sulle emissioni gassose dei dinosauri, non possa vincere. E se non vincerà, diciamo che in pole position. E dopo i dinosauri, invece, un'altra notizia. Fascination of the plants. Che cosa è? È un'iniziativa a livello planetario. Ecco, stiamo vedendo il sito internet, che vuole diffondere e pubblicizzare l'importanza delle piante, della differenziazione vegetale. Ecco, vediamo alcune bellissime immagini. Questo è, se non sbaglio, il fiore di colza, cioè uno dei fiori più comuni che ci sono in tutti i campi. L'importanza, appunto, delle piante, della vegetazione e della biodiversità vegetale. E iniziative in tutto il mondo, ce ne saranno a Milano, a Roma, anche in altre città, per la difesa della diversità vegetale. E dopo Fascination of the plants, a proposito, ci sarà un convegno il 18, cioè domani alla Camera dei Deputati. Dopo Fascination of the plants, dicevo, Envisat, che è un satellite, il più grande satellite per lo studio ambientale della Terra. Ebbene, questo satellite dall'inizio d'aprile aveva smesso di trasmettere e ora gli scienziati, i tecnici, si sono dovuti arrendere. Il satellite, dopo dieci anni, è definitivamente, diciamo così, morto. Su questo abbiamo un servizio del nostro Pino Finocchiaro. Tutte le immagini che stiamo vedendo e molte di quelle che vedremo non arriveranno più. L'occhio più oculto che monitorava lo stato di salute dell'ambiente del nostro pianeta ha smesso di funzionare, anche ufficialmente. L'Agenzia Spaziale Europea ha perso definitivamente i contatti con Envisat, il più grande satellite artificiale mai costruito per l'osservazione della Terra. I contatti si erano interrotti a inizio aprile, ma i tecnici dell'ESA contavano di ristabilire le comunicazioni. Ora, dopo più di un mese di tentativi andati a male, si sono dovuti arrendere. Tutto finito dopo oltre dieci anni di onorata carriera, il doppio della vita prevista, qualche centinaio di chilometri sopra le nostre teste. Ignote le cause del guasto, forse un banale cortocircuito, o forse un transponder andato in tilt. Sono stati dieci anni di successi, una raccolta di dati straordinaria che ha cambiato la nostra conoscenza del pianeta. Con la fine missione di Envisat non soltanto si fermano queste magnifiche immagini dell'Italia e degli altri paesi, ma per qualche tempo i climatologi avranno meno dati su cui studiare i cambiamenti climatici e sapremo di meno anche sulla distribuzione degli agenti inquinanti. E ora, che succede? Beh, bisognerà aspettare un po'. Alcuni fratelli minori di Envisat sono già stati lanciati, altri arriveranno. A Ginevra è stata scoperta una nuova particella subatomica. Il suo nome, l'ho segnato qui, è Barione, il nuovo Barione. È stata scoperta al CERN, nel grande acceleratore LHC, che corre tra la Svizzera e la Francia. E questa nuova particella, beh, era già stata prevista dalla teoria, la teoria delle particelle e il modello standard. Diciamo così che è una specie di tappa intermedia verso la scoperta, la grande scoperta che si attende di mese in mese da Ginevra, cioè della cosiddetta particella di Dio, il bosone di Higgs, quella particella che spiegherebbe come tutte le altre, e la fisica dell'infinitamente piccolo, come tutte le altre particelle possano stare insieme. Vedremo come andrà a finire. Tra gli scienziati si parla di autunno, o più probabilmente dell'inizio dell'inverno, come del momento più probabile in cui verrà comunicata questa importantissima nuova scoperta. E chiudiamo questa parte di news con un altro servizio di Alessandra Sacchetta, questa volta, che mette insieme musica e cosmologia. Prego la regia. Quattro anni per raggiungere la prima stella. Alfa Centauri. Settant'anni per raggiungere il punto dove sono arrivati fino ad oggi i primi segnali radio inviati dall'uomo. Dall'incontro di musicisti produttori del calibro di Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Riccardo Sinigali e Max Casacci, nasce un progetto innovativo e coinvolgente, un connubio senza precedenti tra musica e scienza, che prende forma nel disco intitolato Planetario. Diversa è l'esperienza dei quattro musicisti, grazie alle quali nasce un prodotto poliedrico. Se l'idea è stata del maestro Vittorio Cosma, che abbiamo visto dirigere al Festival di Sanremo, l'orchestra nei brani di Samuele Bersani e di Marlane Kunza, Gianni Maroccolo è lo storico bassista dell'Itfiba prima e PGR poi, nonché produttore di vari gruppi italiani. Max Casacci è in realtà una delle menti, nonché la chitarra dei Subsonica, infine Riccardo Sinigaglia, anima musicale dei Tiro Mancino, e poi produttore di altri, oltre che cantautore. Dalle session dei fantastici quattro producers è stata realizzata la colonna sonora di un viaggio costruito sull'ascolto, di quanto la materia suggeriva in primis e di quanto ognuno dei quattro sentiva di voler proporre agli altri. A cucere le varie tappe del viaggio i testi adattati da Alessandro Cremonuesi, già autore delle Acruz, e dalle spiegazioni narrative di Fabio Peri, letti proprio dal curatore del Planetario Civico di Milano. Planetario è un disco che racconta il cosmo, ma in realtà parla all'uomo dell'uomo, che del cosmo è protagonista e al tempo stesso ospite. Queste le news della settimana, ma adesso iniziamo il nostro argomento. Questo computer di ieri, di oggi e di domani e i materiali di ieri, di oggi e di domani utili per costruirli e perché siano sempre più performanti. Ne parliamo con un fisico dei materiali, appunto Valerio Rossi Albertini, e con Domenico Laforenza, matematico e informatico, grande conoscitore di Internet. Ecco, iniziamo proprio con lei Laforenza. Dunque, se non sbaglio, quest'anno ricorre il venticinquesimo anno dei primi siti internet.it, e poi lei ci spiegherà meglio, e se non sbaglio sono 50 anni dalla realizzazione del primo, non so se si possa chiamare computer, calcolatore elettronico, a Pisa. Ecco, 50 anni sono tanti, ma in questi 50 anni, o forse sarebbe meglio dire, negli ultimi 25, c'è stata una vera e propria rivoluzione. Nel mondo è profondamente cambiato, c'è chi parla di nuova rivoluzione industriale. Sì, è proprio vero quello che dice, buonasera a tutti i telesportatori ovviamente, mi preme cominciare con una storia tutta italiana, per poi cercare di tessere quel discorso che lei ha fatto con delle precise argomentate puntate di dettaglio. Ed è una storia pisana. È una storia pisana, io dico una storia italiana perché è molto bella, mi piace ricordarla, è una storia pisana in particolare. Siamo nel 1954, cosa abbastanza rara, una serie di enti locali, in particolare la provincia di Pisa, di Lucca e di Livorno, mentre stiamo vedendo alle mie spalle delle immagini proprio di quel periodo, che cosa decidono? Decidono di investire in ricerca, una questione molto importante, sempre più importante, soprattutto ai nostri giorni. E qualcuno produsse le cose che stiamo vedendo. Decisero in qualche maniera di chiedere a qualcuno come investire questi 150 milioni di lire dell'epoca e oggi sarebbero 2 miliardi di euro circa. Beh, quindi nemmeno poco. 2 milioni di euro. Ah beh, quindi assai meno. Assai meno, però importanti per l'epoca. Chiesero un'informazione di come potessero investire questi fondi al nostro premio Nobel Enrico Fermi in una delle sue puntate in Italia, una delle sue ultime puntate, e Fermi non ebbe esitazione. Disse, costruite una macchina calcolatrice. Ecco, e questa prima macchina calcolatrice, io me la immagino, non è di quelle, per chi ha i capelli un po' bianchi come me e lei, si ricorderà addirittura quelle ancora a manovella. Assolutamente sì. Era una cosa del genere. Era grande, si potrebbe ipotizzare come dimensione, come un campo da tennis. Come dimensione. Costruita con tecnologia a valvole, poi sono arrivati i transistor e via via. E questa iniziativa cominciò appunto nel 1955. Un primo esemplare, chiamata macchina ridotta, fu costruita a Pisa dagli scienziati di un centro di studi per le calcolatrice petroniche della Università di Pisa. Questo oggetto poi generò un istituto del CNR che si chiamava all'epoca Istituto di Laborazione dell'Informazione. Ed è una storia che è arrivata fino a lei e che adesso invece dirige... L'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è una costrua, un pezzo di oggetto che arriva da quel tempo. Torniamo alla prima macchina, mentre vediamo transistor e quant'altro le immagini procedono un po' più velocemente di noi. Ma che potenza di calcolo aveva? Era grande quanto un campo da tennis? Era grande come un campo da tennis. Meno potente del nostro computer di calcolo. La grande memoria era 8 kilobyte, diciamo 8.000 parole, diciamo se vogliamo, dell'epoca. Questo significa... Adesso faccio un paragone. Ok, vediamolo. Oggi un normale personal computer, qui si parla di K, di 10 alla 3, un normale computer ha qualcosa a bordo di memoria di 4 giga, vengono chiamati, miliardi, diciamo, di byte, di caratteri. Quindi c'è un fattore di scala di un milione di volte più grande la memoria. La macchina di cui si sta parlando, la ceppa, la calcolatrice elettronica pisana, era in grado di fare 70.000 operazioni di addizione e 7.000 operazioni di moltiplicazione, perché è una moltiplicazione più complessa come operazione, al secondo. Oggi noi parliamo di macchine in grado di fare milioni di miliardi di operazioni al secondo e la prossima generazione sarà miliardi di miliardi di operazioni al secondo. Valerio Rossi Albertini, proviamo a riempire il vuoto. Abbiamo visto l'inizio di questa storia, un inizio di 50 anni fa e poi io mi sono procurato, anzi la scenografa molto gentilmente, mi ha procurato due oggetti. Il primo è una matita comunissima, non so se si può secola qui inquadrare. Quello che mi interessa è l'interno, la grafite con la quale si scrive. E poi questo che dovrebbe essere un simulacro di diamante. Eccolo qua. Ebbene, naturalmente è falso, sarebbe il diamante più grande del mondo. Grafite e diamante sono la stessa cosa, eppure oggi proviamo, dal punto di vista della composizione, sono entrambi fatti di carbonio, e il diamante è preziosissimo, la grafite è assai meno, eppure oggi forse la grafite potrebbe diventare più preziosa del diamante in qualche misura. Allora, attualmente la questione è che nel 2010 è stato assegnato il premio Nobel per la scoperta di un nuovo stato del carbonio, oltre quei due che sono stati menzionati adesso, che deriva dalla grafite. Allora, il diamante, sappiamo, è la sostanza, la materia più dura che esista perché gli atomi di carbonio, perché entrambi sono fatti appunto di carbonio, sono in uno stato di aggregazione, in un arrangiamento tale, che si tengono per mano stretti gli uni con gli altri. Mentre invece nella grafite non è così. Gli atomi di carbonio sono disposti su piani, su strati, e questi strati sono legati debolmente gli uni agli altri. Allora, quando passiamo la matita sul foglio di carta, quello che facciamo è l'equivalente di quando si lancia un mazzo di carte su un tavolo da gioco, cioè le carte slittano le une sulle altre e fanno una traccia e fanno una pista. Così, la pista altro non è che la traccia della matita. Allora, si era sempre ipotizzata la possibilità di utilizzare uno solo di questi fogli di grafite di cui sono costituite le tracce della mina sulla carta. Cioè, uno spessore sottilissimo, atomico, diciamo. Addirittura, nel 2010, è stata dimostrata l'evidenza che è possibile isolare un singolo strato, quindi dello spessore di un solo atomo, il quale, perciò, sarebbe così sottile che ci vorrebbero 3 milioni di questi strati per fare un solo millimetro. Qual è la caratteristica di questo strato? È che ha delle proprietà che sono uniche, sono straordinarie. Conduce più del rame, è più resistente dell'acciaio, 200 volte più resistente dell'acciaio e poi ha delle caratteristiche idonee per fare dei dispositivi. Parlavamo prima del primo computer italiano e ora abbiamo fatto un salto brusco in avanti, forse è troppo brusco, ma che c'entra il grafene con i computer? È importantissimo. Allora, per il fatto che esiste una legge che viene chiamata in gergo, è abbastanza nota, quindi la menziono, la legge di Moore, per cui ormai negli ultimi decenni la potenza di calcolo dei computer è aumentata e raddoppiata, diciamo, grosso modo, ogni 18 mesi. Ora, questa è dovuta all'estrema miniaturizzazione, alla progressiva miniaturizzazione dei componenti che costituiscono la parte interna dei computer. Come si fa a diminuire... Come a mano a mano abbiamo diminuito la dimensione del campo da tennis. Esattamente, sì. Da qui siamo partiti e sotto questa metà. E adesso siamo arrivati, appunto, il dubbio era che non si potesse procedere in questo modo proprio perché la miniaturizzazione non consentiva di andare sotto un limite intrinseco che è la dimensione degli atomi o di piccoli aggregati degli atomi. Ora, col grafene e col suo cugino che poi nomineremo e lasciamo in sospeso, bella suspense, forse riusciremo a proseguire anche per il prossimo decennio questa progressione. Cioè, l'aumento delle capacità dei computer e la diminuzione delle loro dimensioni. lo diceva la forense e miliardi di miliardi di operazioni al secondo. E allora adesso parliamo dei parenti. Del grafene, ha parlato Valerio Rossi Albertini, c'è una scoperta italiana. Dopo il grafene, l'ho segnato, si chiama il silicene. È un nuovo materiale che anche questo potrebbe, speriamo trovi, applicazione nei computer che verranno, computer sempre più veloci, come dicevamo, e mentre il grafene è basato, diciamo così, sul carbonio della grafite di questa matita, il silicene si basa sul silicio. E noi dovremo essere collegati al telefono con colei che ha, diciamo così, coordinato il gruppo che ha la porzione di un grande gruppo di ricerca, la porzione italiana, che ha coordinato lo sviluppo di questo materiale, il silicene. Benvenuta alla Paola De Padova, a Rai News, benvenuta professoressa. Buonasera. Allora, innanzitutto io l'ho spiegato malissimo e tocca a lei rimediare i miei errori, che cosa è il silicene? Allora, sì, volevo fare delle precisazioni. Dunque, il silicene è per il silicio, l'anano con il grafene per il carbonio. E cioè, si tratta di uno strato monatomico di atomi di silicio che possiedono una struttura chiamata honeycomb, ovvero anidotape. E questa è la sua più grande caratteristica, in pratica. Poi, volevo un secondo, un attimo precisare dove comincia la ricerca e come. Inizialmente, in realtà, comincia presso il CNRS di Marsiglia sui silicon nanoribbons, che sono nastri, nanonastri di silicio di spessore atomico, di larghezza di soli 16 angstrom, ovvero 0,16 miliardesimi di centimetro o, per fare un esempio, circa 5 volte più piccola di un virus, gli aventi una lunghezza di migliaia di miliardesimi di centimetro e prosegue successivamente in collaborazione con noi, con il CNRS di Roma, l'ISM, dove abbiamo dato, per la prima volta, l'evidenza sperimentale dell'esistenza del silicene, cioè misurando le proprietà elettroniche di questo materiale, che sono, diciamo poi, è la cosa importante, in particolare perché le proprietà elettroniche del silicene sono fuori all'ordinario, così come diceva il dottor Valerio Rossi, ovvero all'interno di questo materiale vi è la presenza di dispersione lineare delle sue bande di energia, che è collegata alle sue quasi particelle, cioè gli elettroni, che si comportano come fermioni di Dirac, ovvero obbediscono all'equazione Dirac, dove appunto per gli elettroni è prevista una massa nulla e una velocità molto elevata, molto simile, molto prossima a quella della luce. E successivamente... A che cosa, scusi se la interrompo, ma a che cosa può servire questo nuovo materiale? Col silicio sono fatti alcuni dei componenti dei nostri computer già attualmente. Sì, sì, è vero. Dunque, come ho detto, il silicene potrebbe avere le caratteristiche molto simili a quelle del grafene, appunto, intanto le sue proprietà elettroniche lo sono. E successivamente si potrebbe dimostrare che anche il silicene potrebbe avere la stessa robustezza e la stessa morbidezza del grafene. Fino adesso questa cosa non è stata dimostrata, però molto presto potrebbe essere così. Il silicene in particolare potrebbe, teoricamente già è stato dimostrato, potrebbe far parte di nuovi transistor che potrebbero avere un'elevata velocità rispetto a quelli attuali. quindi si potrebbe diciamo sognare si potrebbe sognare dei dispositivi molto veloci che magari consumano poca potenza. Grazie, grazie Paola De Padova ad essere stati con noi. Dunque, materiali sempre più piccoli, performance sempre maggiori. Perché c'è una questione fondamentale che il silicio che è stato utilizzato fino adesso dobbiamo immaginare che sia un po' come una scatola. La parte che viene utilizzata agli scopi di calcolo è soltanto la superficie, è solo il coperchio di questa scatola. Allora, tutto quanto il resto va perso. In questo caso siamo in presenza di tanti coperchi, quindi potremmo iniziare a pensare di utilizzare la superficie quasi integralmente di questo si dice. Rispetto al grafene poi c'è un vantaggio straordinario che il grafene è in un solo stato dal profilo della capacità di calcolo del computer mentre invece il silicene il silicio che in gergo si chiama semiconduttore ha la capacità di trovarsi in due stati differenti e quindi può fungere da interruttore può essere acceso o spento e l'interruttore è l'elemento fondamentale di calcolo di un computer. Perché il codice binario insomma acceso o spento prevede la base del funzionamento di tutta la scienza informatica diciamo così. Semplificando così. Computer sempre più veloci performance incredibile dimensioni ridottissime però poi in questi computer super computer qualcosa bisogna metterci dentro e allora iniziano iniziano i problemi iniziano anche i possibili vantaggi perché per esempio quante sono attualmente le persone 25 anni fa nessuna e attualmente quante sono le persone che lavorano e guadagnano attraverso per esempio internet? Dare un numero di quante sono le persone che guadagnano su internet è quasi impossibile quello che si può dire è che sono numeri sempre maggiori sono numeri che derivano da un lavoro di coloro i quali studiano progettano per esempio software per internet per sé come sistema e tutto l'indotto invece che è molto 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 di più che è l'uso di internet per le attività commerciali per le attività business sociali e così via e poi come dicevo ci sono i contenuti esattamente non basta una macchina la macchina può essere velocissima però poi conta quello che ci si mette dentro se mi permette vorrei utilizzare questo palcoscenico per dire che spesso c'è una grande confusione fra cos'è internet si confonde spesso internet con il web internet è di fatto per usare un esempio molto semplice l'autostrada su cui viaggia qualcosa quello che viaggia le auto nel paragone che io faccio sono le attività applicative il web è quella che viene chiamata la killer application cioè l'applicazione più importante che ha generato per Sporagenesi altre applicazioni sempre più importanti che noi usiamo tutti i giorni da comprare un biglietto ferroviario a prenotare la nostra vacanza a richiedere un certificato medico a qualcuno quindi quello che è molto importante di internet è capire questo noi oggi stiamo vivendo un momento in cui i supercalcolatori diventano sempre più grandi in virtù anche del fatto di questo fenomeno di miniaturizzazione che si sposa al concetto di parallelismo più oggetti in parallelo più cavalli tirano più forte quindi il stesso discorso più siamo meglio è questo discorso le immagini esteso a livello planetario questo è internet si basa su un semplice principio oggetti diversi che fino a oggi sono stati solamente calcolatori domani saranno il mio orologio il pacemaker la lavatrice il frigorifero quello che viene oggi determinato è individuato con la logica di l'internet delle cose le cose saranno sempre lì se ho ben capito quindi lei vede il futuro roseo nuovi strumenti che ci aiuteranno il futuro diciamo io sono un ricercatore e debbo vedere per definizione un futuro roseo anche se ovviamente bisogna stare molto attenti alla troppa positività però bisogna che io sia ottimista quello che dico è che fondamentalmente in quest'area internet è definito il motore del ventunesimo secolo e le sue attività ovviamente sono importantissime e come tutte le cose ha ovviamente una rosa ha anche delle spine le spine oggi si chiamano privacy si chiamano possibili attacchi alla sicurezza informatica cyber war nella sua versione più difficile dove stati addirittura pensano di bloccare i sistemi inerralgici di altri stati per ovviamente capirne i segreti o bloccare l'economia e in questi giorni noi viviamo alcune situazioni diciamo che tenderebbero anche a pensare alcune cose strane su come vengono usate le informazioni di altri stati e pensiamo al diritto all'oblio il fatto che io a torto o a ragione finisco in internet su una pagina e dopo di che non riesco più a cancellare questo e tante altre questioni perché di rimando in rimando ne perdo il controllo esatto però quello che è molto importante è che internet ha grandissimi rispetto alle come dire spine le attività la positività di internet è enorme perché permea tutto permea talmente tutto che l'Europa in particolare ma tutti i paesi non solo i paesi brics che oggi sono all'avanguardia ma il mondo vede in internet un motore pulsante di attività commerciale di attività sociale lei pensi per un attimo alla democrazia alla possibilità di esprimere dei pareri dei giudizi capire certe situazioni avere dei dati chiari su come vengono spesi i dinari pubblici e cose del genere questo oggi è possibile con oggetti che si chiamano open data che si basano su internet e invece dal punto di vista del fisico dei materiali il futuro che cosa è? ma il futuro intanto abbiamo premesso abbiamo premesso il fatto che stiamo miniaturizzando miniaturizzazione significa maggiore capacità di calcolo e collocazione dei computer anche in posti che non erano di elezione per i computer stessi poi in futuro quello che vediamo è l'applicazione della nuova fisica sappiamo che il mondo microscopico è governato da leggi differenti da quelle del mondo classico che si chiama la meccanica quantistica e c'è una caratteristica molto singolare negli elementi quantistici che intrinsecamente possono stare nei due stati di cui parlavamo prima essere acceso spento bianco o nero allora se prendiamo molti di questi elementi hanno la caratteristica di comporsi in maniera differente rispetto ai bit tradizionali cioè agli elementi tradizionali se abbiamo uno solo di questi elementi quantistici ci sono due condizioni possibili se ne abbiamo due saranno due per due se ne abbiamo tre sarà due per due per due se ne abbiamo n sarà due per n nel senso che un computer no non è complicato perché si moltiplicano le condizioni ognuna è due e va moltiplicato per due per tante volte quanti sono gli elementi basterebbe il risultato è che si stima che con soli 300 di questi elementi potremmo fare un computer potente come quello il più potente dei computer attuali quindi e chiudiamo dopo il campo la macchina grande quanto il campo da tennis avremo un computer più o meno delle dimensioni di quelli di casa potente quanto il più potente computer di adesso probabilmente anche più piccolo ci sono dei problemi da risolvere come in tutte le cose ma tra dieci anni probabilmente verranno alla luce questi computer e allora grazie a Valeri Rossi Albertini grazie a Domenico Laforenza noi prima però di lanciare la pubblicità poi cambieremo argomento una piccola rubrica abbiamo pensato di fare una rubrica sugli annunci economici della scienza insomma per quelli che cercano lavoro nella scienza prego la regia gli annunci economici della ricerca scientifica borse incarichi a tempo e posti fissi ricomincia quest'oggi dalle pagine del sito internet della rivista le scienze che in collaborazione con Nature Job pubblica più di 8000 annunci non è facile trovare qualcosa di equivalente soprattutto per quanto riguarda l'Italia qui da noi questo tipo di informazioni che sono o dovrebbero essere pubbliche vengono ottenute il più possibile nascoste e dal sito per trovarlo basta digitare Nature Jobs su tutti i più comuni motori di ricerca emergono alcune perle come i zero posti proposti in Italia e Spagna di fronte alle 301 proposte di lavoro scientifico che arrivano dalla Svizzera agli oltre 600 annunci tedeschi scorrendo qua e là le pagine si scopre che l'Istituto Italiano di Tecnologia offre due posti a tempo determinato per postdoc la durata è di due anni la scadenza è vicinissima il 20 maggio un altro posto sempre per postdoc è offerto da Biogema Dariano Irpino in Campania agli eventuali candidati è richiesto almeno un PhD o un titolo equivalente di studio in settori come bioinformatica statistica biotecnologia l'assegno è di tre anni e la scadenza del bando è per il prossimo 12 giugno per ogni altro annuncio rimandiamo al sito www.lescienzetuttoattaccato.naturjob.com Il nome dell'albergo più evocativo nel mondo è ora il nome di un portfoglio di oltre 20 alberghi e resort scoprite di più su